La ternana in serie B 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 Ecco quello che dicono tutti quelli lì Tutti quelli che vedo su Youtube Dicono La ternana in serie B La ternana in serie B E' vero Siamo praticamente in serie B Questo hanno ragione che siamo in serie B Ma Siamo in serie B Ma il campionato non è finito Quindi Dopo poche giornate dal ritorno Che la ternana in serie B E' vero E' vero E' verissima Però Mancano ancora tante partite La ternana vince 2 a 0 contro il Foggia E' Sessantadue punti Se non mi sbaglio Ehm Baric ha pareggiato, eh Baric ha pareggiato contro il Catania Quindi Ehm E' Hanno ragione che siamo in serie B Perché Ehm Con questo pareggio Siamo in serie B per forza mamma mia che si è mangiato partipilo là davanti alla porta prende palla ruba la palla al foggia partipilo lo smarca due due giocatori del foggia assolutamente a fumagalli così si chiama il portiere e fa un po' da fumagalli ti è sbagliato non è la porta vuota ma lì dovevi segnare vabbè non importa perché abbiamo comunque vinto segna Rajcevic dopo la ternana ruba la palla con un colpo di testa se non mi sbaglio di bobe no contact poi la prende paghera se non mi sbaglio però fallete non l'ho visto raga non l'ho visto la prende paghera poi crossa paghera mi sembra però credo che mi sbaglio e tiro di Rajcevic che segna l'1-0 per la ternana lì sul riassunto che ho visto io della partita ho visto solo un'azione del ho visto solo un'azione del foggia non era un'azione era una punizione ho visto solo quella se non ho visto tutte le azioni della ternana sul video hanno fatto vedere poi perché non sono riuscita non ho visto la partita proprio tutta poi gol di sempre di partipilo al 66esimo 66esimo di testa si fa perdonare perdonare non perdonare segna dopo l'errore clamoroso quindi 2-0 per la ternana lì alcune azioni foggia da quello che ho sentito io alcune azioni le ha fatte due azioni però lì ho visto solo un'azione quindi Avellino che se la giocano se la giocano by Avellino quindi Avellino che non mi aspetta win ma vi devo dire una cosa ragazzi ditemi voi che seguite la serie C il giro di C dove è ovviamente la ternana ditemi non so se mi sbaglio perché io quando vado a vedere la classifica io guardo solo il Bari non so c'è il Terraman non so neanche quanto sta il Catanzano non so quanto sta l'Avellino credo che è seconda io guardo solo solo il Bari perché c'ho tanta paura non più di tanta perché ora c'ho meno paura ora c'ho molta meno paura dei video passati tipo un mese fa dicevo c'ho una paura c'ho una paura che ci recupera il Bari c'ho una paura mamma mia mamma mia mamma mia e ora non c'ho più di tanta paura poi Terramo Terramo che inizio campionato era il top inizio campionato era fortissima forte inizio campionato era terza seconda tornerà sempre prima ovviamente che può essere e ora sarebbe il Terramo ora non so quanto quanto è in classifica poi ci vado a vedere aspettate che metto bene la fotocamera poi ci vado a vedere Cavese Ultima Trapani vabbè Trapani scusa che ho già detto in tanti video poi Monopoli molto male mamma mia Monopoli mi dispiace per il Monopoli sta andando malissimo questo campionato per il Monopoli quattordicesima ragazzi quattordicesima Palermo che da inizio è riandata su poi Paganese penultima poi decima non mi sembra nona come si chiama Juve Stabia comunque tre per l'ho ora diciamo un attimo del playoff secondo me vabbè escludiamo la Dernana che è in serie B alcuni di io è in serie B anche per me è in serie B è in serie B la Dernana facciamo che la Dernana è in serie B e per ora in queste ci sono quattro squadre che ora per ora fino a questo ora fino a ora Bari Avellino Avellino poi Catanzaro tu no Catanzaro Foggio vabbè tra le quinte c'è qualcuno si giocano per i playoff poi ci stanno anche degli altri gironi di serie C io guardo solo il girone della Dernana di gironecci io non so solo che nel girone se non mi sbaglio il como è prima solo quello e prima se la stanno giocando su D-D-Roll e como vabbè non importa quindi iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivate la campanellina per perdervi nessun altro mi video sempre forte nana e forte nana non lo avete fatto non lo avete fatto Grazie a tutti.